dobbiamo fermarsi fino a domani sera ci sarebbero argomenti per parlare fino a domani sera rapidissimo andare fuori una sola cosa nel ringraziare tanto poi non parliamo più perfetto quindi andiamo a vedere non parliamo niente dell'asticunio no 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 aspetta fermo lì non parliamo più io nel senso che io sono adesso parliamo di tutto asticunio compresa molto molto rapido per ringraziarla per ringraziare per ringraziare la sua famiglia per ringraziare tutti i 1148 48 collaboratori che lavorano qua ringraziare i sindaci gli amministratori lei mi fa un piacere mi fa un onore a portarmi dentro la sua azienda perché? perché questa azienda è un'azienda di cui in tanti più volte hanno parlato in termini di innovazione di curiosità sul futuro e siete in settori tra l'altro che in questo ultimo periodo sono andati all'esterno peggio di come potevano andare ma dimostrano le potenzialità giustamente macchinari e infrastrutture per l'agroalimentare voi pensate a cosa può essere l'Africa se l'Europa smette di guardarla come preoccupazione e inizia a guardarla come luogo dove si deve andare a fare investimenti anche per evitare che ci sia un esodo verso di noi oggi per la prima volta dopo tanto tempo il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker intervenendo al Parlamento Europeo ha detto le cose che noi italiani gli stavamo raccontando da anni gli stavamo dicendo ehi dobbiamo fare quello che noi chiamavamo Migration Compact devi finalmente fare gli investimenti in Africa oggi finalmente al Parlamento Europeo Juncker ha presentato un progetto ancora si può fare di più ma comunque è un primo passo nella direzione giusta allora penso all'agroalimentare penso all'edilizia che è il vero settore che ha sofferto in questi anni noi abbiamo perso in Italia 927.000 posti di lavoro di cui oltre la metà nell'edilizia allora se finalmente semplificando deburocratizzando ma contemporaneamente facendo efficientamento energetico adeguamento antisismico lavoro di qualità si torna a investire in questo settore penso a cosa significhi anche da tutti i punti di vista per il vostro settore però indipendentemente da queste considerazioni che pure sarebbe interessante affrontare io dico oggi mi sono preso una boccata d'aria fresca perché invece che stare a Roma in tutte le chiacchiere fumose dei palazzi di Roma mi sono visto molte delle realtà due scuole Bagnolo e Mondovì ed è fondamentale investire nelle scuole ed è investire in regola d'arte e consentire ai nostri ragazzi di avere un futuro in modo serio mi sono visto un po' di belle aziende adesso andiamo a vedere i vostri capolavori e adesso poi chiudiamo a Cuneo al teatro però visto che giustamente il signor Micari mi evidenziava alcuni problemi uno a Cuneo sappiamo che lì c'è una discussione sulle modalità tecniche mi impegno personalmente a rientro a accelerare con il ministro del Rio e con la struttura tecnica la fondamentale arteria perché altrimenti voi che siete in realtà bellissima rischiate di essere più isolati l'aeroporto so che voi avete anche messo come imprenditori e come realtà del territorio un po' di risorse ci avete creduto ci continuate a credere dal mio punto di vista la totale disponibilità a lavorare insieme certo ci vuole sinergia perché poi bisogna fare le cose con un briciolo di intelligenza però non c'è ombra di dubbio che questo è un terreno un territorio un luogo straordinario ma sulle Camere di Commercio abbiamo recepito il messaggio non troppo velato che la ci ha dato leggermente metaforico ma c'è una cosa io non sono abituato al suo presidente è troppo velato io non sono una vera amica che io mi offenda ma le sembra uno che si offende se uno gli dice le cose in faccia c'è una cosa però che voglio dire quello che lei ha detto della fiducia ne parlavamo prima con Oscar Farinetti e ne abbiamo parlato a pranzo è il tema quello della fiducia perché se noi riusciamo non a raccontare un'Italia che non c'è perché l'Italia è anche piena di problemi nessuno li può negare ci sono delle cose che non vanno ma la differenza tra chi ha a cuore il futuro dell'Italia e chi si accontenta di urlare e di protestare è che chi ha a cuore il futuro dell'Italia i problemi cerca di risolverli allora proviamo a chiudere gli occhi un attimo da qui a dieci anni vediamo un mondo che ha sempre più bisogno di qualità che ha sempre più bisogno di relazioni umane perché siamo pieni di social network e di interconnessioni ma poi c'è bisogno della relazione umana autentica quella che questo territorio conosce bene e c'è bisogno di creare le condizioni perché l'Italia torni a credere in se stessa spargere fiducia significa questo non vuol dire spargere ottimismo che pure noi siamo anche ottimisti però quando vediamo realtà come la vostra la fiducia viene spontanea quindi dal mio punto di vista grazie per averci invitato qui adesso andiamo a vedere le aziende ma quello quello che le chiedo a lei e ai suoi ma a lei innanzitutto è quello di continuare sempre a considerare il futuro come il nostro più grande alleato perché noi siamo pieni di gente che tutte le volte che pensa al futuro è quasi impaurita è quasi bloccata il mio futuro presidente può solo essere piccolo perché purtroppo ma chi pensa che le creda il suo sarà molto lungo poi non lo dica perché queste cose non ci crede nessuno in un futuro piccolino si possono fare tante cose dipende l'intensità l'importante è non perdere tempo quindi insieme grazie al signor Amiccare grazie a tutti voi e spero che questa occasione sia importante non solo per parlare di Asticuno a Camere di Commercio ho ricepito il messaggio ma anche per dimostrare che c'è in Italia gente che sa fare cose di qualità e le sa fare meglio che in tutti gli altri paesi del mondo perché piaccia o non piaccia siamo belli si mangia bene ma siamo anche bravi a fare le cose questa è la specificità della vostra terra andiamo a vederle grazie a tutti 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 Grazie.